Un grande ero nazionale, Vincenzo Nibali, chiede ai rafters! Il Giro 2024, in programma dal 9 al 12 aprile, è stato annullato, come ha detto in un'intervista Mauro Vegni, direttore del ciclismo di RCS. Una notizia confermata dall'assessore regionale allo sport e turismo Elvira Mata. Non ci sarebbero i fondi sufficienti, circa un milione, per finanziare la manifestazione pronta a cambiare regione. Dal 2019 la corsa è stata finanziata con fondi extra-regionali e ultimamente con quelli europei del POFERST. La regione, come spiega Mata, avrebbe cercato in questi mesi di reperire le somme senza però poter dare all'organizzazione le certezze necessarie ed RCS avrebbe quindi preferito cambiare luogo all'evento, ormai calendarizzato. Non mancherebbe però, secondo la regione, la volontà politica di ospitare una manifestazione così importante, non solo per lo sport ma anche per il turismo e da Palazzo d'Orlean, assicurano che si cercheranno soluzioni per il prossimo anno. Per il 2024 sportivo siciliano rimane però un'occasione persa. Grazie. 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 Grazie.